Grazie a tutti. Prima dell'incidente accaduto questa mattina, secondo una prima ricostruzione, l'uomo era davanti alla sua casa quando un furgone utilizzato da due coniugi romeni che stavano svuotando la cantina dell'abitazione da materiali ferrosi in una zona in leggera discesa si è improvvisamente sfrenato andando a travergere l'uomo che è stato schiacciato morendo sul colpo con ferite al cranio e al torace. Un medico di passaggio è subito intervenuto per prestare le cure all'anziano ma non c'è stato nulla da fare. Da Pescara si era anche alzato in volo l'elisoccorso del 118 che poi è stato deviato su un altro intervento. Sulla dinamica dell'incidente stanno ovviamente indagando i carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Dell'accaduto è stata informata anche l'autorità giudiziaria e il furgone e i materiali sono stati posti sotto sequestro. I due coniugi sono stati denunciati per omicidio colposo e raccolta abusiva di materiali ferrosi. La salma del 76enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara. E adesso torniamo a parlare dei treni bianchi dell'Unitalsi che sono rimasti bloccati in Francia a causa dell'alluvione del sud del paese. E' finita ieri sera l'odissea dei pellegrini che tornavano da Lourdes che sono stati bloccati per 14 ore sui treni bianchi. Andiamo a sentire il racconto di uno dei testimoni raccolto da Elisa Leuzzo. Il viaggio per Lourdes dell'Unitalsi con a bordo circa 2.500 persone a bordo dei 5 treni bianchi diventa un'odissea. Matteo Di Giuseppe tra i passeggeri ci racconta la sua esperienza. Sì, noi siamo partiti da Lourdes nel pomeriggio di sabato verso le 2 e un quarto. Praticamente la sera invece di arrivare a Ventimiglia ci hanno dirottato su Marsiglia verso le 11 di sera su per giù. All'inizio non sapevamo il motivo di questo dirottamento su Marsiglia. Poi mano a mano ci hanno informato delle notizie che giungevano da Canne e quindi dell'alluvione delle vittime. Subito ci hanno dato soccorso, ci sono venuti incontro sia la Croce Rossa francese, la protezione civile francese e la polizia che ha ascoltato la stazione dove stavamo insieme ad altri treni francesi. Ci hanno dato dei viveri. Poi verso l'1 dopo 14 ore quindi siamo ripartiti da Marsiglia però il tratto per Ventimiglia era bloccato. Quindi abbiamo fatto il vecchio percorso passando da Lione, Modanne e Torino. Alcune necessità principali che abbiamo avuto è stato per quanto riguarda una signora che doveva fare la dialisi che poi da Modanne l'abbiamo trasferita sul treno dell'Emilia perché abbiamo incontrato un altro treno a Modanne dell'Emilia e poi da Torino è stata fatta scendere e ha fatto la dialisi direttamente a Torino e poi l'abbiamo fatta rientrare con altri mezzi. Quindi rientrati a Torino abbiamo anche avuto assistenza dalla Croce Rossa italiana con le ambulanze che hanno preso questi disabili con maggiori necessità di dialisi. Due giorni di viaggio, quasi 15 ore bloccati sui treni, cosa avete fatto? Come le avete vissute queste ore? Fondamentalmente le abbiamo vissute in serenità perché siamo potuti comunque scendere in stazione quindi abbiamo colto l'occasione per conoscerci meglio, per farci qualche chiacchierata in più insieme ai nostri amici disabili in maniera da non creare panico, ansie perché comunque fondamentalmente noi non abbiamo vissuto l'alluvione in prima persona, quindi non abbiamo avuto queste paure, queste necessità dovute alla pioggia. Però la paura principale era quella che si creasse un po' di panico all'interno dei passeggeri quindi tutto il personale di Salonitalsi è rimasto tranquillo, fatto gruppo, ci siamo uniti e insieme anche i pellegrini e i malati abbiamo superato questa difficoltà. Ancora una notizia di cronaca che arriva da Avezzano, incendio in una fabbrica nel nucleo industriale una fabbrica che produce componenti in vetro resina, provocarlo sarebbe stata una scintilla conseguente ad uno sbalzo di energia elettrica. Nello stabilimento aperto pochi mesi fa erano a lavoro questa mattina al momento dell'incidente almeno 30 operai che hanno subito abbandonato la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti e una pattuglia dei carabinieri che ovviamente sta svolgendo anche i rilievi del caso. E restiamo sempre nell'Aquilano. Per un'altra notizia di cronaca dovrà affrontare il processo a metà settembre prossimo Filippo Giacomelli, 58 anni professore presso l'Università di L'Aquila imputato per comportamenti persecutori nei confronti della ex moglie. Il giudizio si terrà al Tribunale di Roma, il servizio di Giorgio Alessandri. Era diventato un tormento per l'ex, tanto da aver adottato nei confronti di questa condotte persecutorie che avevano generato stadio d'ansia e paura che l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini. Per questo motivo Roberto Giacomelli, 58 anni di Roma, ordinario di reumatologia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie dell'Università dell'Aquila e membro del CDA dell'Ateneo, dovrà affrontare il processo, fissato a metà novembre del nuovo anno, al Tribunale di Roma. A disporre il rinvio a giudizio, il gruppo del Tribunale Capitolino Vilma Passamonti, dopo aver valutato il materiale probatorio raccolto e le testimonianze. Secondo l'accusa Giacomelli, con le sue condotte, avrebbe costretto la sua ex moglie a essere accompagnata a casa da amici e conoscenti, a variare gli orari relativi alle sue uscite di casa o a cambiare itinerari per evitare di incontrarlo, a rimanere in casa temendo i suoi continui appostamenti. Tra le accuse mosse anche chiamati incessanti al telefono, ma anche aggressioni verbali per motivi di gelosia, alla presenza sempre di amici e conoscenti e minacce violente con la frase «se mi tradisci ti uccido». Il GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, su richiesta del Pubblico Ministero Gennaro Varone, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale pescarese in merito al processo sui presunti rimborsi facili alla Regione Abruzzo a carico degli ex assessori Mauro Di Dalmazio, Angelo Di Paolo e Gianfranco Giuliante. I fatti contestati a Di Dalmazio e Di Paolo sono di competenza del Tribunale di Roma, quelli invece contestati a Giuliante sono di competenza del Tribunale di Livorno. I tre sono accusati di peculato e il solo Di Dalmazio deve rispondere anche di truffa. Adesso andiamo in Regione Abruzzo per un protocollo importante firmato questa mattina con l'Inail per la salvaguardia degli infortunati sul lavoro. Paolo Renzetti. Presidente D'Alfonso, un importante protocollo d'intesa è stato firmato questa mattina con l'Inail. Quale è l'importanza di questo documento? Di non lasciare solo l'infortunato e per fare in modo che lui venga preso in cura e in carico mobilitiamo anche le competenze e le capacità di Inail. Inail significa anche tradizione su questo fronte. Prevenzione, ma quando la prevenzione non è stata sufficiente anche interventi riabilitativi. Questo per ridurre il tempo di non lavoro dell'infortunato. Quali sono i numeri in Abruzzo nella nostra Regione? La tendenza qual è? Ma intanto c'è una consistente purtroppo problematica da questo punto di vista e il sistema delle istituzioni fa benissimo ad organizzarsi utilizzando competenze e bravure proprio perché casi di infortunio sul lavoro segnano numeri molto significativi in Abruzzo in ragione anche di una cantieristica che ha bisogno di maggiore rigore. Ma anche il sistema della manifattura a volte si trova a produrre dolore in corrispondenza della forza lavoro. Alla luce di una riflessione adeguata su questo abbiamo firmato, volendolo fortemente, questo protocollo di accordo con Inail per fare in modo che l'infortunato non sia solo. E adesso andiamo al comune di Pescara sulla relazione ispettiva del MEF che ha criticato la gestione economica e patrimoniale e i bilanci della giunta guidata da Luigi Alboremascia nel quadriennio 2015-2014. Ha parlato questa mattina anche il sindaco Marco Alessandrini. Ascoltiamo. Succede che l'attività amministrativa viene alla fine, viene in qualche modo smascherata l'attività amministrativa di chi ci ha preceduto. L'avvio cioè della procedura di riequilibrio finanziario ha fatto sì che come da previsione di legge la ragioneria generale dello Stato abbia qui inviato un ispettore che ha svolto una accurata analisi e lo ha fatto con la competenza propria e tipica di un organo terzo e evidenziato in maniera inequivoca la gestione finanziaria precedente che ci ha portato ad un'eredità finanziaria per l'appunto disastrosa e che ha imposto a questa amministrazione per salvare la baracca, la barca che stava affondando, ci ha imposto politiche senz'altro impegnative nei confronti della cittadinanza. Noi abbiamo sempre cercato di spiegare questo evidenziando come non c'erano alternative a dette politiche che però lo ricordo non sono solo di innalzamento della pressione fiscale ma sono anche di robusto taglio della spesa corrente di questo ente e lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che Pescara senza una solidità finanziaria naturalmente non può pensare di proseguire nelle sue traiettorie di crescita. Siamo consapevoli che è un lavoro impegnativo ma non ci siamo sottratti alla responsabilità, non abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto, non abbiamo come dire volto la testa da un'altra parte ma abbiamo maneggiato con serietà questa situazione. Credo che ciò valga anche a rendere inequivoco in qualche modo di chi sono le responsabilità di una situazione così complessa e penso che le operazioni verità siano sempre necessarie. Il 31 dicembre sostanzialmente ci sarà la legge finanziaria e sapremo che incidenze adesso avrà sui nostri bilanci. Noi contiamo di approvare anche il bilancio 2016 entro la fine dell'anno perché riteniamo che la programmazione sia indispensabile. Restiamo ancora in tema di conti e di bilancio ma adesso ci spostiamo al comune di Chieti dove questa mattina in consiglio comunale è arrivato il discusso provvedimento di bilancio della giunta di Primio. Andiamo a vedere. Sindaco di Primio, consiglio comunale importante oggi, si parla di bilancio dopo i rilievi dei revisori dei conti, qual è la situazione? I rilievi dei revisori riguardano parte di gestione del bilancio veramente pluriennale, non riguarda soltanto questa normalità. Parliamo di un bilancio di previsione però, quindi di quello che faremo in ragione di quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo curato soprattutto che non ci fossero spese che andavano oltre le nostre reali disponibilità, abbiamo curato che non mi fossero tagli sul sociale che è la parte del bilancio che ci è più a cuore, abbiamo voluto soprattutto conservare una serie di opere che sono strategiche per la città e che quindi continuano ad avere spasio nel piano triennale e in quello annuale delle opere pubbliche. È un bilancio indubbiamente difficile, inutile negarlo, inutile nascondersi dietro un dito, ma è anche un bilancio che dà a noi la forza e la determinazione per dire che abbiamo la possibilità di andare avanti, che abbiamo possibilità ancora di investire sulla città e che soprattutto vogliamo investire sul futuro di questa città e questo lo possiamo fare curando i cittadini e curando i servizi. Qualche parte però bisognerà tagliare? Certo, abbiamo tagliato qualche milione di euro, abbiamo tagliato il superfluo, abbiamo iniziato a tagliare anche le spese che oggi non sono necessarie e se fosse mai nella necessità, nel bisogno di farlo, saremmo disponibili anche a tagliare oltre, ma senza mai toccare politiche sociali e soprattutto servizi ai cittadini. Restiamo sempre all'interno del Consiglio Comunale di Chieti perché una delegazione di lavoratori degli istituti riuniti San Giovanni Battista ha presenziato al Consiglio Comunale incontrando Sindaco, Assessori e Consiglieri per chiedere un impegno dell'Assise sui problemi che attanagliano la struttura di Piazza Garibaldi. Oltre un'ora di incontro con il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio per parlare degli istituti riuniti San Giovanni Battista, cosa è uscito fuori da questo incontro col primo cittadino? Diciamo che la riunione che abbiamo avuto è positiva, abbiamo buone speranze, adesso aspettiamo solo che anche la Regione e l'ASL faccia la sua parte. Comunque tutti si sono impegnati, Chieti è l'unica istituzione che è rimasta poi tra parentesi è pubblica e di conseguenza loro vogliono far mantenere aperti gli istituti. Adesso dobbiamo lavorare anche sulla Regione che deve decidersi per la compartecipazione e per tutti i pagamenti che dobbiamo avere. Vogliamo un attimo parlare un po' delle problematiche degli istituti riuniti, quali sono i problemi? Si parla di stipendi, di contributi ma voi siete soprattutto preoccupati per il futuro? Certo, noi siamo preoccupati per il futuro perché a prescindere dagli stipendi non ci dimentichiamo che noi facciamo assistenza a persone anziane e portatori di handicap. Di conseguenza ci sono problemi anche per il pagamento dei fornitori e la cosa è grave perché ci rimettono sempre le persone che non hanno nessuna colpa. Di conseguenza se rientrano tutti i soldi, cioè tutti i crediti che noi vantiamo riusciremo a mantenere questo istituto ed andare avanti. Nonostante ciò i dipendenti che non percepiscono lo stipendio vengono a lavorare e assistono sempre amorevolmente gli assistiti che noi abbiamo. E adesso andiamo a Teramo. Si allarga il fronte della frana Colleparco. Il sindaco ha fissato un sopralluogo con l'ex assessore sottosegretario Mazzocca e chiede alla Regione 750 mila euro necessari a fermare il fenomeno. Vediamo. La frana di Colleparco peggiora a vista d'occhio. Una parte di via Montauti è ormai sprofondata e non è più percorribile neanche a piedi. Poco sopra, la bretella che collega Colleparco a Villa Mosca è a Peti e per percorrerla bisogna andare a passo d'uomo. Il sindaco da Cristio Brucchi per questo motivo giorni fa ha chiamato Mario Mazzocca che ha conservato la delega alla protezione civile e ha concordato con lui un sopralluogo da effettuarsi questo pomeriggio. Mi sento di tranquillizzare in linea generale i cittadini che sono quelli armati hanno ragione e oggi ho questo sopralluogo e poi chiederemo un intervento urgente da parte della Regione. Stanno finanziando la terza tranche per il dissesto geologico. Io ritengo che lì dentro debbano essere messe le risorse. Prevedo un intervento di 750 mila euro per risolvere il problema della frana, per fare l'intervento. Tanto la Regione ci potrebbe autorizzare l'intervento e noi potremmo già partire con i lavori, almeno con una prima parte dei lavori, per cercare di poi affrontare l'inverno con una certa tranquillità. Questo è l'obiettivo. Oggi ci confronteremo con la sessione, ma la mia richiesta andrà in tal senso e sarà una richiesta forte perché, ripeto, il problema è serio e va affrontato con determinazione, ma io non ho dubbi che questo avvenga. Perché ci è voluto tutto questo tempo? Detta del nostro gruppo di lavoro c'è un problema di raccolta delle acque, di acque sotterranee, che sono quelle poi che determinano la frana e quindi ogni volta che piove è la nevicata dello scorso anno quella che ha determinato poi il peggioramento, quindi insomma va affrontato in questo modo. Però, ripeto, ci siamo, oggi vedremo con questo sopralluogo e poi cercare un intervento immediato per risolvere intanto la fase acuta, così come si dice. Non abbiamo perso tempo perché ne abbiamo subito comunicato alla Regione la situazione e poi ci sono stati delle interlocuzioni, però è chiaro che io capisco anche la Regione che aveva, diciamo, subito dopo gli avvenuti fatti del dissesto in paesi interamente isolati. Quindi, insomma, magari c'è stato un elenco di priorità. Però voglio dire, adesso non guardiamo il passato, guardiamo il futuro, oggi c'è questo incontro e poi cerchiamo di fare interventi veloci e rapidi, almeno per una prima fase. Si chiama Amico Parco, il progetto di rinascita di Villa De Reisis a Pescara, affidata alla cooperativa Aurora Valori e Sapori del Comune Adriatico. Nell'occasione inaugurata anche un'altalena per disabili. Antonio Recanati. Si chiama Amico Parco, il progetto partito la scorsa settimana a Pescara. Il parco di Villa De Reisis, affidato dal Comune di Pescara, dunque rinasce grazie alla gestione della cooperativa Aurora Valori e Sapori che si occupa in totale di una trentina di ragazzi. Aurora Valori e Sapori è data nel 2011 ed è un'associazione giovane che ha come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate attraverso la creazione di opportunità di crescita personale e professionale. Il progetto di Villa De Reisis avrà come cardine la realizzazione di ogni forma di aggregazione e socializzazione destinata a promuovere e rafforzare la coesione sociale. In realtà non sono io che vi onoro ma siete voi che avete onorato me invitandomi a partecipare a questa bellissima iniziativa. Una manifestazione meravigliosa non solo per l'atto in sé, cioè per aver potuto vedere l'installazione di questa altalena per i ragazzi diversamente abili ma soprattutto perché ho potuto notare quanta accoglienza, quanta partecipazione, quanta festa c'è in questo parco. Oggi abbiamo voluto dare fede alla nostra promessa, il nostro primo obiettivo, quella dell'installazione di un'altalena per bambini costretti in carrozzella. È stato un evento veramente molto sentito, forse inaspettato. La cittadinanza ha risposto tantissimo, anche prima con la raccolta fondi che abbiamo fatto. Ora abbiamo un sogno, un obiettivo ulteriore che rientra sempre nel progetto che si chiama Il mio amico parco. Un giardino sensoriale, un early garden, un giardino che servirà e sarà utilizzato in particolare dalle persone con denenza senile, con i malati di Alzheimer o che devono fare semplicemente della riabilitazione. E adesso andiamo alla Barcolana di Trieste dove, sempre a Trieste, è stato presentato il villaggio Abruzzo. Sarà il canale Ponte Rosso a Trieste ad ospitare il villaggio Abruzzo alla 47esima edizione della Barcolana, la regata velica più importante d'Europa. Una vetrina di promozione turistica per la regione Abruzzo che nei 2000 metri quadri di stand con 50 espositori metterà in mostra il meglio della sua produzione no gastronomica ed artigianato, oltre a tutta la sua bellezza naturalistica e paesaggistica e alle tradizioni secolari. Il villaggio Abruzzo alla Barcolana, dopo la presentazione a Pescara, è stato illustrato anche a Trieste nella sede della Camera di Commercio dall'assessore alle tradizioni locali della regione Abruzzo Donato di Matteo, che è stato assistito da un parterre d'eccellenza composto da Francesco Perroni, assessore regionale alle finanze, Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio di Trieste, il vice prefetto di Trieste Rinaldo Argentieri, teatino di nascita, i consiglieri provinciali e comunali di Trieste, il docente di fisica nucleare professor Gian Rossano Giannini, il presidente dell'Associazione degli Abruzzesi a Trieste e numerosi suoi associati, tra cui la dottoressa Maria Rosaria Marinucci, ricercatrice nel campo della fisica dell'atmosfera e moglie del premio Nobel per la pace, Filippo Giorgi. Si articolerà con una parte legata alla ristorazione, con i vini tipici nostri, con i prodotti tipici, i piatti particolari della nostra terra e con i prodotti tipici dell'enogastronomia abruzzese. Poi c'è una parte destinata all'esposizione per il nostro artigianato, parteciperà l'endere regione per l'artigianato e poi tutta un'altra serie di espositori che vanno dalla promozione del territorio con le DMC fino ad arrivare alla promozione dei vari prodotti tipici della nostra regione. Si conclude con uno spazio legato alle manifestazioni folcloristiche e tradizionali della nostra regione che ogni serata presenterà delle iniziative molto molto belle. Adesso ci spostiamo di poco, andiamo all'Expo di Milano. A Casa Abruzzo è stata presentata la mostra sul Fucino organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale. Vediamo se è pronto il servizio. Allora andiamo avanti e invece cambiamo argomento e parliamo dei balneatori. parte dall'Abruzzo un nuovo portale web che raccoglie l'offerta turistica degli stabilimenti balneari italiani. Vediamo di cosa si tratta. Parte dall'Abruzzo e precisamente da Giulianova, un'idea innovativa per quanto riguarda la fruizione del mare, una piattaforma web sul modello che c'è per gli alberghi. Si potrà prenotare il proprio ombrellone da casa? Sì, è proprio così. Il modello è proprio quello del booking, prenotazione online. Attraverso quindi cellulare, smartphone, tablet o qualsiasi altro sistema è possibile prenotare l'ombrellone ovunque ci si trova, la palma, l'ombrellone e la spiaggia desiderata in tutta Italia. Naturalmente spiaggiafacile.it rappresenta il nuovo portale del mondo balneare per il mare. Quindi è un'innovazione comunque nel mercato balneare. Ci sono anche altre aziende che hanno provato ma con scarsi risultati perché effettivamente o ci sono dei grossi costi in ingresso oppure perché comunque non si riesce ad offrire un buon quantitativo di spiaggia al mercato. Quindi l'utente non ha nessun vantaggio. Invece la nostra applicazione offrirà tantissime spiagge proprio perché sarà gratuita per i balneatori che potranno registrarsi e avranno la possibilità di utilizzare il nostro gestionale gratuitamente e offrire quindi la propria spiaggia agli utenti. Quindi l'utenza potrà confrontare offerte e servizi dei vari stabilimenti? Perfetto, potrà confrontare offerte, iniziative, servizi annessi e connessi se si accettano cani o no, quindi dog sì, dog no. Attrezzature specifiche anche per i diversamente abili per usufruire della spiaggia, del bagnasciuga, addirittura per fare il bagno al mare. Quindi tutti i servizi annessi e connessi. Un portale unico che unisce e rende unico le 33 mila aziende balneari in Italia, le mettono in rete unicamente con un'offerta specifica globale. E adesso passiamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie B ed il Pescara, ripresa degli allenamenti nel pomeriggio al poggio degli olivi per i biancazzurri in vista della gara di domenica contro l'Ascoli. In terra marchigiana non ci saranno i nazionali ma Oddo non si fascia alla testa. In preallarme Serasi e Bruno, partita intanto la prevendita dei biglietti. E noi adesso andiamo ad ascoltare due dei protagonisti della scorsa gara contro il Cagliari, Ugo Campagnaro e poi Mandragora. Questo ci dà molta sicurezza, sicuramente le squadre giovani hanno bisogno di quello lì. Questa è una squadra che è molto giovane, allora c'è bisogno di questo tipo di partite per sapere a che livello siamo. Secondo me c'è molta qualità e adesso bisogna soltanto mettersi in mostro. Ha sempre detto che il Pescara è una squadra forte, in cosa deve migliorare? Magari deve migliorare un pochettino nella malizia dentro del campo, sportivamente parlando, perché questa squadra magari il problema di essere giovane è questo qua, magari la furbizia dentro del campo ancora ci manca un pochettino. Però queste cose sono migliorabili, noi possiamo fare molto bene, perché la qualità è la cosa più difficile di trovare in una squadra e questa ce l'ha. E a Ugo Campagnaro quanto manca per tornare al top della condizione? No, ho fatto una partita con la primavera e questa è la prima che gioco con la prima squadra. La primavera non ho fatto neanche 90 minuti, ho fatto 60. Piano piano sicuramente, perché era già da tanto che non giocavo, ci sono state anche le vacanze in mezzo. Ho fatto soltanto due o tre settimane di preparazione e adesso sicuramente giocando potrò trovare la condizione ideale. All'ingresso Mr. Oddo ti ha detto prendi in mano la difesa, mi raccomando controlla tu la situazione. No, ma ho 35 anni, forse si affida più per questo, un po' di esperienza ce l'ho e allora è importante quando il momento è delicato fare questo tipo di considerazioni. È andata bene. Domenica sono impegnato con l'Under 21 e mi dispiace non essere con la squadra, ma sicuramente fare il tifo per la nostra squadra. Ci chiederebbe. Questa vittoria cosa cambia per voi? Ci dà sicuramente fiducia, anche se eravamo già fiduciosi delle nostre caratteristiche e possibilità e andiamo avanti per la nostra strada. Quattro gol segnati e altrettanto subiti e questo è il bilancio di una Virtus Lanciano che in questo inizio di campionato si è scoperta solida in fase difensiva ma anemica in zona gol. Oggi la ripresa degli allenamenti anche per i rossoneri in vista della gara di domenica pomeriggio in casa del Bari. La Virtus Lanciano torna all'antico e si riscopre più solida. La premeta ditta a Menta Aquilanti, due della vecchia guardia, sta fornendo prestazioni di alto livello e la squadra finora ha incassato appena quattro reti. Certo, il merito non è tutto loro perché c'è un'intera fase difensiva che funziona ma l'intesa affinata negli anni dai due centrali concorre. Nell'ultima domenica la Virtus ha retto l'urto di un attacco importante come quello dello Spezia disinnescando le iniziative degli avanti Calaio, Catellani e Shetum. Semmai i pericoli sono arrivati dagli inserimenti dei centrocampisti Brezovic, Palo e soprattutto Cianagia ma qui è stato bravo Casadei a dire di no. Proprio il portiere è un'altra notaglieta. Quest'estate doveva essere il terzo della gerarchia di Daversa ma il mancato arrivo di Cragno e l'infortunio di Aridità hanno regalato a Casadei un'opportunità che si sta ben giocando. L'infortunio di Aridità non è grave ma il titolare può rientrare senza fretta e Casadei potrebbe difendere la porta della Virtus anche domenica prossima a Bari. Le note dolenti arrivano dall'attacco, appena 4 le reti segnate. Da Versa smorza le polemiche ma la sensazione è che la squadra crei poco rispetto alla mole di gioco ampia che viene sviluppata. Mole di gioco è venuta meno solo a Modena ma che si è vista in tutte le altre partite ma le occasioni importanti da gol sono poche e se poi quelle che si costruiscono non vengono convertite, clamorosa quella di Ferrari con lo Spezia, si fa dura. Non è un caso che l'unica vittoria contro Lascoli sia stata approvviziata da due palle inattive passate per il piede di Mammarella il quale è stato funzionale anche in altre circostanze. Su azione sono giunti i gol di Ferrari a Vercelli e di Lanini a Trapani. Proprio Lanini può crescere ancora tanto mentre piccole di Francesco tra corsa, scatti e dribbling hanno macinato tantissimo ma concludono poco in porta. Sarebbero importanti l'inserimento dei centrocampisti, Zeduardo ha dato segnali ma il più pericoloso continua ad essere il veterano Vastola che quando gioca si regala sempre almeno una chance importante. Aspetti dunque salienti su cui D'Aversa può lavorare per far salire di livello i risultati della squadra. Finisce qui la prima edizione del TG6, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Finisce qui la prima edizione del TG6.